Si chiama Accordo di Collaborazione per un proficuo circuito comunicativo finalizzato all'attività di prevenzione antimafia. Lo hanno firmato il prefetto di Foggia Valiante e due procuratori della Repubblica di Bari e Foggia, Rossi e Vaccaro. Per rafforzare ancora di più questi strumenti di prevenzione amministrativa antimafia, tutela dell'economia legale del nostro territorio e salvaguardare quindi la libera concorrenza, le imprese sane. Rispetto alle commesse pubbliche, anche all'attività, al rischio di infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni. In pratica un protocollo per potenziare l'azione istruttoria del gruppo Interforzi Antimafia, per scongiurare le infiltrazioni mafiose nei progetti del PNRR, per condividere le conoscenze del gruppo Interforzi Antimafia. Una rete, una sorta di modello Foggia. In realtà con questo protocollo abbiamo voluto dare una forma ufficiale a una collaborazione che già c'è, già c'era da tempo, attraverso scambio di notizie e di informazioni. È proprio la squadra quella vincente e siamo sicuri che facendo squadra, anche questa criminalità organizzata in questo territorio che sembra così forte, a volte quasi invincibile, invece subirà, già subisce, ma subirà una sconfitta di cui credo tutti quanti auspichiamo. Interforze contro la mafia, un'azione potenziata grazie ai recenti pentiti. Il lavoro investigativo che è stato fatto dalle procure e in collaborazione con le istituzioni è quello che poi convince le persone a collaborare. Continueremo su questa strada della piena collaborazione tra le procure di Bari e di Foggia e anche con le autorità amministrative. C'è una squadra Stato che vuole continuare a essere squadra. Il protocollo recepisce anche le indicazioni del Ministero dell'Interno e della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.